Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. Con questo video, che vuole essere più una guida che un vero e proprio tutorial, vorrei presentarvi WiserMe. WiserMe è un'applicazione freemium che è pensata per realizzare attività di verifica interattive. Il suo punto di forza è però quello di offrire differenti tipologie di prove che utilizzano testo, video, immagini e quindi abbiamo dalle tradizionali scelte multiple ad attività più complesse, guardare un video e rispondere a delle domande oppure andare ad un link da noi suggerito e estrarre delle informazioni e così via. Inoltre, l'altra caratteristica di WiserMe è che noi possiamo combinare un numero indefinito di queste attività e di queste prove differenti in un unico ambiente, in un unico foglio di lavoro come viene chiamato, in modo da costruire un'attività complessa che non è a questo punto più solo una semplice verifica ma se costruita dal docente in modo opportuno diventa una sorta di mix che unisce gli elementi tradizionali della verifica utilizzati in senso formativo con la lezione vera e propria cioè svolgendo queste attività lo studente si trova in un ambiente di apprendimento online in cui apprenderà attraverso le risorse che noi gli offriamo tutta una serie di conoscenze dovrà adottare dei comportamenti che sono incentrati su determinate abilità per giungere al suo obiettivo, risolvere il problema, rispondere al quiz, svolgere l'attività proposta in questo modo lo studente diventa protagonista di un processo che se è pensato e studiato bene è un vero e proprio percorso che gli consente di costruire autonomamente in modo personalizzato la sua conoscenza e quindi il suo percorso di apprendimento ricapitolando quindi Wizer.me è un'applicazione che permette di costruire un ambiente di apprendimento online e in questo senso è ideale per sfruttare il web come ambiente di apprendimento perché Wizer.me è come una sorta di filtro che pesca le risorse online, un'immagine, un video, un link le aggrega combinandole in un unico luogo, il nostro foglio di lavoro e propone delle attività basate su queste risorse Freemium presenta una versione base che ha molte funzionalità, anzi tutte le funzionalità di editing ed è interattivo, è multipiattaforma nel senso che lo posso utilizzare con qualsiasi sistema operativo e con qualsiasi browser ed è molto semplice da utilizzare sia per il docente che per gli studenti si basa infatti su un'interfaccia drag and drop, cioè tutte le operazioni per essere più corretti si possono realizzare trascinando, cliccando e trascinando col mouse inoltre non necessita di registrazione, per questo è molto adatto sia agli studenti più piccoli per la sua semplicità e per il fatto che non devono registrarsi ma se si studiano in modo opportuno le attività proposte con un foglio di lavoro è adatto anche agli studenti della secondaria superiore dicevamo che possiamo costruire attività di apprendimento molto semplici una verifica sommativa ma anche complesse e qui il discorso si fa interessante perché se si vuole adottare un approccio blended cioè integrando l'attività online con l'attività in presenza se si è convinti che il vero problema anche per quanto concerne le competenze digitali e le competenze interdisciplinari trasversali sia quello di insegnare agli studenti ad utilizzare in modo critico e consapevole il web che ormai è il luogo di produzione e condivisione della conoscenza allora la possibilità di creare fogli di lavoro consente di proporre attività molto complesse consente cioè di creare un ambiente di apprendimento che lo studente deve esplorare da cui può trarre informazioni e conoscenze che gli impone di valutare, giudicare naturalmente questo dipende dalla qualità dei link, dei testi, delle immagini che abbiamo inserito e delle attività più o meno complesse che abbiamo elaborato e proposto in relazione a queste risorse l'altra caratteristica è appunto che possiamo anche studiare i compiti e attività a differenti livelli e di complessità dalla corrispondenza al vero o falso all'osservare un video, al visitare un sito, all'estrare informazioni all'inserire dei testi più o meno brevi la possibilità anche di registrare la propria voce il docente può formulare delle attività o dare delle istruzioni registrando vocalmente la sua voce e lo studente può rispondere allo stesso modo tutto questo verrà poi salvato e quindi il docente potrà avere un report completo sulle attività compiute dallo studente inoltre abbiamo anche la possibilità di integrarlo con Google Classroom o con Edmodo per quanto riguarda i piani di abbonamento è presente una versione light di gratuita che offre tutti gli strumenti di editing completi e quindi permette di realizzare un numero illimitato di compiti e di assegnarli sfruttando i link possiamo anche assegnarli che so via Edmodo oppure tramite un URL con cui poi li condividiamo con gli studenti o con un codice e così via è anche possibile creare delle classi e utilizzare i compiti creati da altri utenti della comunità anzi più che compiti diciamo fogli di lavoro poi abbiamo The Awesome Plan e The Awesome Pack vedete 89 dollari all'anno e 59 dollari all'anno per 10 pack Awesome Pack è per acquistare insieme ad altri colleghi 10 licenze praticamente mentre The Awesome Plan consente la realizzazione di un numero illimitato di registri di classe e la possibilità di differenziare le istruzioni e personalizzarle a seconda degli studenti offre una piena integrazione con Google Classroom permette di gestire il profilo degli allievi e permette agli allievi di realizzare dei fogli di lavoro a loro volta però diciamo che per quanto riguarda le esigenze più comuni cui si va incontro nella pratica di insegnamento e di apprendimento la versione Lite offre mezzi insomma del tutto soddisfacenti se poi è di nostro gradimento se ci risulta utile 89 dollari sono circa 70 euro all'anno qui avete una comparazione tra la versione Lite e The Awesome Plan basta cliccare sulla funzione traduci questa pagina se non lo capite più o meno si arriva a capire tranne il misterioso roster che vorremmo dire elenchi probabilmente sono i registri un solo registro bene, la procedura che dobbiamo seguire nel creare il nostro compito è quella di creare appunto un foglio di lavoro che unisce, come abbiamo detto, elementi dell'insegnamento della lezione tradizionale a quelli del compito tradizionale con varie tipologie di prove l'apprendimento risultante è un apprendimento tipo personalizzato è un apprendimento significativo questo ovviamente se noi costruiamo il foglio di lavoro e le attività che in esso sono comprese nel modo opportuno cioè in modo da far sì che gli studenti possano ricollegare e assimilare in relazione a quelle che sono le strutture cognitive conoscenze, competenze pregresse e le attività che noi gli stiamo proponendo e diciamo sollecita molto l'autonomia dello studente queste sono le varie operazioni che possiamo compiere ma è meglio vederle finalmente direttamente su Wiser.me questa è la nostra area di lavoro per tutte le operazioni rimando ai due video tutorial che ho linkato nella presentazione poi posterò il link della presentazione nel box descrittivo del video su YouTube vediamo che abbiamo tre pulsanti cliccabili qui in alto a sinistra e un menu formato da tre altri pulsanti qui sulla sinistra qui abbiamo i fogli di lavoro che ho già realizzato per provare questa applicazione qui li realizzati dagli studenti qui non ce n'è nessuno bisogna naturalmente acquistare l'account a pagamento e qui abbiamo invece la comunità di Wiser.me questa è una funzione molto interessante perché mi permette di cercare tra i fogli di lavoro già realizzati da altri docenti di sceglierne uno per esempio questo di esplorarlo e se è adeguato a quelli che sono le esigenze mie dei miei studenti di copiarlo questo naturalmente è in lingua inglese a questo punto l'ho copiato e se vado vedete in worksheet fogli di lavoro i miei fogli di lavoro proverò eccolo qui il compito il foglio di lavoro che ho copiato e che posso usare lo posso aprire editare modificare adattare le mie esigenze assegnarlo ai miei studenti ma andando in Wiser Community si può accedere anche con questo pulsante oltre che con questo io ho la possibilità di cercare o per argomento questi sono non so scienze spagnolo biologia e così dicendo matematica vado su matematica e avrò la possibilità di consultare dei fogli di lavoro che hanno come argomento la matematica posso anche cercare però usando che so by grade quindi a seconda del livello premio 11 dovrebbe essere il livello che corrisponde grossomodo alla secondaria superiore alla prima alla terza liceo posso combinare con vedete mat oppure social study togliamo mat e qui abbiamo altri 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 lavori quindi insomma è molto semplice cercare vediamo adesso le tipologie di di prova che posso assegnare e vediamo la struttura di un foglio di lavoro ecco questo è un foglio di lavoro sui sui diagrammi di Venn vedete che abbiamo caricato un'immagine cioè il docente che l'ha creato ha caricato un'immagine poi ha inserito dei punti in questa immagine dando delle istruzioni gli studenti devono inserire la corretta definizione per esempio clicco qui e inserirò la definizione qui inserirò un'altra definizione e così via anche questo è fatto più o meno seguendo lo stesso principio anche qui devo aggiungere tutti i quadrilateri chiedo scusa tutti i membri della famiglia del quadrilatero penso che qui andrà scritto o quadrilatero o parallelogramme o sono un po' ignorante e così via rettangolo trapezio eccetera eccetera qui abbiamo un test più tradizionale un'immagine e una domanda e dobbiamo indicare la risposta giusta andiamo ancora più giù e vediamo un altro esercizio dobbiamo indicare insomma tra queste forme geometriche tra questi quadrilateri e i parallelogrammi quali hanno una e quali due serie di lati paralleli però il trapezio ne ha solo due lati paralleli eccolo qui e come vedete compare qui sotto l'elenco il quadrilatero ne ha due di lati paralleli due serie insomma due set di lati paralleli e quindi clicchiamo sul celeste e compare qui quindi come vedete è molto carino se il foglio di lavoro di prima presentava una serie di attività differenziate qui come vedete abbiamo un tradizionale test a scelta multipla quest'altro che è in cirillico quindi non so neanche se Google possa tradurlo abbiamo invece questa pagina è stata tradotta sì un accidente abbiamo invece insomma una serie di immagini anzi gif animata questa e noi dobbiamo semplicemente IEM vedete dobbiamo semplicemente selezionare la risposta giusta ecco ha tradotto la risposta in italiano vedete è tutto dello stesso tipo per bambini magari molto piccoli questo è un foglio di lavoro per conoscere meglio gli scozzesi quindi vedete abbiamo un video io osservo il video è molto interessante anche questo un video di 5 minuti adesso io tolgo il volume mentre il video scorre vedete vengono date una serie di informazioni sulla scozia e poi devo rispondere a delle domande oppure devo realizzare delle corrispondenze le realizzo a caso ecco qui e così via questa l'abbiamo già vista è un'immagine anche questa l'abbiamo già visto questo invece devo completare il testo Lady Murray is the hospital of Scotland eccetera eccetera quindi abbiamo visto un esempio di completamento e questo è un esempio invece di domanda la risposta aperta interessante io posso anche rispondere utilizzando la registrazione clicco autorizzo e a questo punto la registrazione è partita e sta registrando quello che io sto dicendo quando ho terminato clicco e abbiamo concluso stesso io clicco qui e come vedete è molto molto semplice da utilizzare altra domanda risposta aperta quindi qui abbiamo una serie di attività che prevede di guardare un video riferire scrivere domande risposta aperta eccetera eccetera questo è un foglio di lavoro di Kate Smith adesso non mi soffermerò sulla tipologia di domande più o meno le abbiamo viste per la maggior parte ma sulla complessità come separare e filtrare vedete che qui abbiamo tutta una serie di attività osservare l'immagine indicare i nomi corretti scrivere qualcosa su su questa su questa immagine che ha a che fare con il lavoro che questa immagine propone di filtraggio dare definizioni ancora nomenclatura eccetera eccetera quindi come vedete si possono costruire anche tutta una serie di attività molto complesse quello che dicevo quando dicevo combinare insieme risorse immagini video link attività prove per fornire un vero e proprio percorso di apprendimento guardate che carino ho questo questo è di Adas Askenazi che propone ai suoi studenti di realizzare il loro profilo Facebook e dalle istruzioni inserisci il tuo nome eccetera eccetera in questo modo gli studenti sono guidati nel comprendere l'organizzazione il layout l'impaginazione la struttura dell'account Facebook se torniamo alla presentazione iniziale qui trovate un link cliccando vi comparirà un articolo in cui io presento sul mio blog Wizer.me ve lo mostro perché qui trovate anche due video tutorial in italiano a differenza del video che sto registrando adesso sono brevissimi Elisabetta Buono penso siano 5 minuti e abbiamo questo di Fauzia Tutorial Online che è di 3 minuti e mezzo dove viene spiegato come realizzare il vostro foglio di lavoro e condividerlo io vi mostrerò ora alcune cose che nei due video tutorial non vengono mostrate perché sono molto sintetici del resto non è difficile Wizer.me e prima di tutto vi mostro come creare una classe andiamo su learner vedete io ho già creato una classe di prova basta cliccare qui aggiungi un'altra classe dare un nome alla classe per esempio terza D indicare il livello terza D qui dovrebbe essere 11 perché non ne abbiamo 13 loro 12 crea la classe e la classe è creata in questo caso gli alunni si dovranno registrare per unirsi alla classe e quindi io potrò fornire loro un link che ho copiato e condividerlo su Edmodo su Whatsapp dove volete via mail oppure fornirgli direttamente questo codice e dirgli registrarsi come studenti e fornirgli il codice per usare Wiser.me non è necessario creare le classi infatti se vediamo io adesso apro questo foglio di lavoro e vi mostro vedete qui abbiamo quattro passaggi il primo passaggio è la creazione l'editing eccetera io posso modificare tutto ma questo ve lo mostro nel video tutorial qui abbiamo un'anteprima che ci mostra l'aspetto finale del nostro foglio di lavoro e finalmente assegna agli studenti allora devo cliccare se voglio assegnare nel senso che devo semplicemente ottenere un link perché gli studenti non possono registrarsi o non voglio avere classi io do un titolo a questa prova poi avrò un link da condividere con loro oppure Edmodo Google Classroom oppure il pin cioè il codice posso generare chiedo scusa il codice da fornire agli alunni oppure ancora posso inserire e incorporare il compito nel mio blog è interessante anche dunque open significa che io consento agli altri docenti di utilizzare il mio lavoro come io ho fatto con questo e quest'altro pulsante significa attivandolo io do la possibilità allo studente di avere un feedback immediato certo non per risposte alle domande aperte ma per tutte le altre risposte di avere un feedback immediato se invece voglio sfruttare la possibilità di utilizzare le classi bene allora andrò su crea un compito seleziona la classe vedete ho le mie due classi che ho creato e automaticamente verrà assegnato ad esse terzo chiedo scusa quarto passaggio è le risposte io naturalmente qui non l'ho mai utilizzato non l'ho ancora autorizzato con i miei studenti ma qui avrei tutte le risposte i report insomma delle attività svolte dai miei studenti e questo è per condividerlo con i colleghi questo è il link questo lo rendo pubblico nella galleria oppure oppure no meglio di no perché sono una prova oppure lo posso condividere su Pinterest tweet facebook ad modo e via dicendo bene in soli 20 minuti ho concluso questa guida su WiserMeet insisto su una cosa WiserMeet mette al centro dell'apprendimento e dell'insegnamento il web ed è questo il punto essenziale della competenza digitale imparare ad utilizzare il web perché il web rappresenta non una realtà finta e cattiva ma rappresenta una realtà reale in cui noi sempre di più ci troveremo a dover agire pensare lavorare comprare fare amicizia litigare e dobbiamo quindi farlo con cognizione di causa e quindi benvenga a WiserMeet che dà appunto la possibilità di sfruttare al meglio il web da questi punti di vista vi ringrazio 21 minuti arrivederci di sfruttare a